Un mese di La Piazza, esperienza clamorosa, ne ho sentite di tutti i colori, la gente dice delle cose pazzesche, bellissime, TG della gente, l'opinione della strada, su tutto, su tutti gli argomenti, ho fatto un mix, vediamo come stanno insieme tutte queste cose, una specie di delirio, a parte non so se mi rinnovano il contratto, quindi non so se ci vedremo ancora, quindi non lo so, ma può darsi niente, questo è il mix della piazza. Lei si chiama pura, pensiamo per televisione. Qual è la notizia del giorno? Di stamattina? Noi siamo in mano ai? Ai tedeschi. Ai tedeschi. Che titolo farebbe? Farebbe... L'orto di Pinocchio. Che cos'è l'orto? Pianta i soldi. Ah, l'orto di Pinocchio. Il comunista che pianta, il comunista che pianta, il comunista anche... E pianta anche i comunisti? No, 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 ma come? L'ultimo giapponese, l'ultimo giapponese. Fa... Il comunista che pianta, il pianta. Pianta i comunisti? Che crescono dopo. L'era fasol cludeva la friccia quando canteva un sull'enda per lì. L'era fasol cludeva la friccia quando canteva un sull'enda per lì. Eeeh, come fanno le campane? La botta di qua è una botta dell'ala. Come fanno queste campane? L'indondante. Il comunista che pianta, il comunista che pianta. Il comunista che... No, no, i ciclisti non ci sentono, i ciclisti ciclabili possono andare sotto il potico. Campacavello. Che l'erba? Cresce. Gli uomini bolognese sono dei playboy? Sono dei cretini. La storia della misera è tanta che la sento dire. Comunque i soldi ce l'hanno i conservatori di sinistra. Come siamo messi qua? Ah, come siamo messi? Che ne so, io sono arrivato a tenso. Sì, ma... Comazzi. Comazzi. Cavalier Comazzi. Cavalier Comazzi. Comunista che pianta, il comunista che pianta, il comunista che... Io l'altro giorno a momenti ho investito, Giorgio, ho investito da un autobus e allora ho dovuto dire col vigile che mi ha fermato, la vigilesse a dire la verità, che sai, insomma, hai capito? Insomma, la vigilesse a Bologna non sono male. Ah, guardi, io proprio, vabbè, io devo fare il mio mestiere. Allora ho detto, io non posso rischiare di andare sotto l'autobus per colpa che voi volete... Allora io giro sotto anche al portico. Cosa ha detto la vigilesse? Ha detto che io dovevo farle la multa. Cavalier Comazzi. Cavalier Comazzi. La piazza? No, è il mio cortile. Ah, il suo cortile. La gente la chiama Piazza Maggiore, ma questo è il mio cortile. Dice che è il suo cortile. C'è l'Ims che non vede l'ora che ciocchino tutti i loro lì. Se le vendono ancora. Cosa? Le da mettere sulla telecamera. Io ho una telecamera con Panasonic. Eh? Eh, è bella, ma hai tanti anni che ce l'ho. Le batterie le vendono, eh? Ah, no, mi dicevo che non c'erano più in commercio. No, ci sono, ci sono. No, perché è una misura più larga, non è di quelle piccole. Ah, allora è... È grande così. Allora è difficile, è difficile. La Madonna è il peccato perché è nuovo. È una qualità se non la chiamano la televisione. A presto... Grazie a tutti.